ciao allora oggi facciamo un video in usuale perché anche se non ce l'aspettavamo e soprattutto avevamo detto che non volevamo regali e che si buttassero via dei soldi una mia collega di lavoro ormai ex collega di lavoro ha deciso di donarci questo che tutto questo che vedete qui l'abbiamo incontrata proprio adesso e quindi abbiamo deciso di fare subito questo video così potete vedere tutti anche quindi cominciamo subito con innanzitutto vi voglio far vedere la bellezza dei dei pacchetti che sono stati fatti con le sue mani da maria e su ogni pacchettino c'è una frase e sono anche personalizzati questo è per me massimiliano e c'è scritto le chiavi della nuova vita no le chiavi della nuova casa attaccate qui no attaccate ad un pendaglio di sentimenti e poi lo apriamo subito vediamo subito vediamo un po ma guarda che bellino anche il proprio no sei quasi mi dispiace smontare tutto questo biliettini bisogna conservarli anche crediamo un po cosa c'è è un ancora che bello l'ancora è segno di speranza ecco alex ci sta ricordando che dobbiamo mangiare alle bimbe è stupendo meraviglioso si riesce a vedere bene aspetta che lo metto sulla carta bianca è davvero meraviglioso poi ha visto che andiamo a vivere al mare ci sta veramente stupendo grazie maria quante volte lo dice non lo so vediamo questo altro è un altro regalo allora questo c'è scritto che per me sempre allora nord sud est ovest ovunque getterai le reti io ti vorrò bene anche questa è una frase meravigliosa grazie maria anch'io ti vorrò per sempre bene tu lo sai conosco poco anch'io ti voglio bene anch'io io ti adoro nel tuo abbraccio sentite un grande calore soprattutto per il fatto che ti offendo in i modi e tu nonostante ma tanto offende anche me nonostante tutto sei mia amica e nonostante tutto io sono suo amico nonostante tutto ancora una barca anche qui quindi immaginiamo che sarà tutto a sfondo marino è stupendo è una barca a vela bellissimo veramente la taglia è perfetta veramente bella sì 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 io non vi do l'ora di sfoggiarla al mare grazie stupendo grazie la sera quando passeggeremo nel lungomare di trami facciamo un bel video salutiamo questo invece e immagino per renzo non c'è scritto niente ma immagino che sia per te allora non c'è il nome sì un piccolo pensiero per te renzo mi ricordo di te come ad un come mi ricordo di te come un biondone alto ciao con affetto maria mi ricordo di te come un biondone alto vediamo che adesso è diventato bianco il capello vediamo un po è una maglietta anche per te speriamo che ti stia che tu ultimamente maniato un po io la vedo bella sembra bella ampia comunque ma vedo bella ampia dovrei dimagrire nel caso anzi di buon auspicio meglio così grazie 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 veramente e poi c'era anche questo per te allora qui c'è scritto buona nuova residenza per renzo vediamo e questo sarà un portachiave anche per me eccolo sì questo è diverso perché immagino che sarà abbinata la maglietta anche questo perché la mia maglietta era con la nave bellissimo è proprio elegantissimo elegante molto cioè è tipo diamantato che tu sei come le gazelladre ti piacciono le cose brillanti maria ma mi conosci bene a renzo piacciono le cose sbarlucicose come una gazelladra grazie veramente di cuore grazie poi poi andiamo avanti c'è un altro pacco allora qua c'è scritto allora vediamo se riesco a leggere l'immagine come non riesci a leggere non riesco perché ci fai ombra col cellulare io non vi immagino già nella vostra stanza tra virgolette preferita due cuoricini queste cosine vi occorreranno quindi vediamo un po' intanto c'è tennis potete immaginare la casa come ridotto non ve la faccio vedere perché sennò vi spazientate che siamo nel bel mezzo ben più di me del mezzo e che sta sguazzando in mezzo ma cucina ecco perché è la tua stanza preferita dai mamma mamma che meraviglia allora no dobbiamo aprire subito questa carta la vogliamo togliere ma sono stupendi ma perché ma allora ci sono due come si dice a bologna burazzi ma sono meravigliosi e poi i guanti forno che tra l'altro non abbiamo ora abbiamo solo uno e di vedere che abbiamo solo un guanto forno e ci sono anche le presine e tutto un coordinato meraviglioso della nostra nuova cucina che vi faremo vedere però se avete già visto gli altri video sapete già più o meno come va bene però finché non abbiamo finito di arredare veramente bene grazie meraviglioso che meraviglia ancora non finiscono più ti do il bigliettino leggo anche questo leggo tu così puoi leggerlo attraverso la telecamera allora adesso tieni un po tu la telecamera ci invertiamo un attimo no lo giravi no allora faccio da solo se devi fare no ti leggo io il bigliettino scusa allora bello dormire sogni bellezza dolcezza e ti svegli con lo sguardo al mare no loro tengo questo per voi un uva la mia questi secondo me sono potrebbero essere mi dispiace distruggere i pacchettini perché sono meravigliosi questi secondo me sono delle come si chiama di sempre con le federe secondo me queste sono federe con il mare quindi col sacchetto di maria no l'arcobalera candy col sacchetto di maria si è appena tutto lo so l'ho visto hai visto sono le federe inquadra anche l'immaginità ma lo apro le tiro fuori sì che così li possiamo impacchettare meglio sì sì vediamole maria mamma mia ma quanta quanta roba ma perché ti aspettiamo a trani assolutamente così li vedrai con i tuoi occhi guarda che bello stupendo vero grazie meraviglioso veramente che meraviglia che colori tra l'altro stupendo vero vediamo anche questi apriamo lì si adesso però anche quello volevo piegare vediamo così lo possiamo mettere in valigia ma che colori davvero stupendi guarda che questo mamma mia bellissimo forse meglio così sì bello 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 grazie stupendo che belli mamma mia come sono colorati stupendo che allegria ci stanno benissimo con le nostre lenzuola grigie perché noi abbiamo la grigia quindi grazie davvero bellissimo stupendo è l'ultimo ma non ultimo dolce bello anche questo questo qui non è per noi ma è per candy candy allora valla prendere mamma mia candy vieni a vedere allora vediamo se riesce a che lei pensa che stiamo giocando per lei è sempre tutto un gioco vediamo un po cos'è si stanno ricorrendo per tutta la casa loro intanto noi riguardiamo questi mamma mia che meraviglia veramente colori stupendi grazie ancora maria meravigliosi stupendi ecco arriva candy vieni che india a vedere guarda per te allora guarda patatini che vabbè tanto adesso quando aprirei il pacchetto automaticamente si incuriosisce vediamo un po' allora vediamo un po' è un toppettino ma è stupendo bello bellissimo grazie da parte di candy è stupendo è proprio che ma è meraviglioso eh che carino grazie davvero ma che bello candy ma che bel regalo che ti ha fatto l'anzia maria stupendo veramente stupendo bello 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 grazie anche da parte di candy anche se tu lo so che non ami molto gli animali no ma non è che non non è che non hanno gli animali ha paura non ha dimestichezza con la vicinanza con no maria ha il terrore di ogni vabbè ma tu anche prima dell'arrivo quando non mi hai conosciuto prima dell'arrivo della prima nostra gattina nella nostra vita avevi qualche dubbio sui dati sono tante persone che hanno così delle paure irrazionali così come io la plastrofobia ci sono persone che hanno delle altre paure irrazionali che poi uno col tempo può eventualmente superare o no però intanto ha paura però ci ha regalato questa cosa bellissima perché quindi comunque che mi ti ringrazia tantissimo e adesso ti salutiamo questo video andrà all'interno di un nostro blog però intanto lo anticipiamo all'interno dei nostri spazi social della nostra associazione culturale ciao ciao continuiamo nostro trasloco verso trani e grazie tante maria grazie ciao a tutti grazie a tutti che seguite il nostro trasloco ma veramente grazie maria per queste cose meravigliose veramente grazie ciao